Torna l'appuntamento con la rassegna internazionale di corali polifoniche organizzata dall'Associazione Musicale Corale 99 dell'Aquila, giunta quest'anno alla 34esima edizione. Sabato 28 ottobre alle 18 a Palazzetto dei Nobili dell'Aquila si esibiranno, oltre ai padroni di casa della 99, due corali di assoluto livello artistico, la Savani di Carpi, diretta dal maestro Gian Paolo Violi, e il coro femminile Sibilla Ansemble di Ascoli Piceno, diretta dal maestro Carmine Leonzi. La manifestazione avrà come obiettivo quello di offrire al pubblico un programma musicale completo, unendo ad un alto livello artistico un vasto repertorio musicale che possa soddisfare le esigenze di tutti. Con la decisione di organizzare questa manifestazione nella prestigiosa cornice del Palazzetto, all'interno del Centro Storico, si conferma la volontà dell'Associazione, diretta dal maestro Ettore Del Romano, in linea con tutte le realtà cittadine che operano nell'ambito della cultura, di contribuire alla promozione del patrimonio artistico. Cori prestigiosi è soprattutto un programma molto variegato perché il coro Sibilla Ansemble farà un programma più tradizionale, più classico, mentre la Corale Savani farà degli arrangiamenti di musica pop, leggera pop, quindi un programma molto particolare. Noi siamo già stati con la Corale 99 in trasferta a Carpi, quindi abbiamo già avuto modo di ascoltarli, sono molto molto bravi, molto particolari anche, nel loro modo appunto di eseguire questo tipo di musica. e invece dobbiamo ancora andare ad Ascoli Piceno, probabilmente il prossimo anno saremo ospiti anche della rassegna che organizzerà appunto il coro Sibilla Ansemble di Ascoli. Si avvicinano le festività natalizie e quindi abbiamo un invito abbastanza importante dall'orchestra e da camera di Spoleto che ci ha chiesto di eseguire con loro un Gloria di Vivaldi e quindi probabilmente faremo questo Gloria che sarà replicato in due altri posti vicino a Spoleto, sempre in provincia vicino a Spoleto e stiamo cercando di organizzarlo anche qui all'Aquila, quindi probabilmente potrebbero essere quattro esecuzioni di questo Gloria di Vivaldi. Quindi per l'immediato abbiamo questa cosa e poi ad aprire, il 6 aprile, con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese seguiremo due mottetti di Felix Mendelssohn e anche in questo caso una bella prova in tedesco, musica bella, impegnativa e quindi questo impegno con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese.